Miscella Amerigo 1934. Qualche tempo fa l'amico Alberto Bettini mi ha chiesto se potevo essere intenzionato a realizzare una miscella per espresso esclusivamente per lui. Un piacere e un onore poterlo accontentare, o almeno cercarli accontentarlo. Mi ha spiegato un pochino il profilo di tazza, mi ha spiegato un pochino le sue aspettative, volevo una miscella che rispecchiasse un espresso italiano tradizionale ma in abito un pochino elegante. in maniera da poter togliere tutti i caffè a cui una volta eravamo abituati, i caffè di fruttosi o magari di raccolto vecchio eccetera, per avere un profilo di tazza che fosse gustoso, idonico, complesso ma di facile beva. E quindi abbiamo iniziato a ricercare una selezione di caffè arabica provenienti dalla Sud America e abbiamo iniziato a selezionare che non è stato semplicissimo e robusto di buona qualità, perché è facile trovare un robusto intenso e sciropposo ma quanto trovare un robusto pulito non è cosa così spettante. Per cui abbiamo iniziato a fare delle prove. Abbiamo realizzato un assemblaggio con 60% arabica dall'America meridionale, 40% robusto asiatici senza Vietnam e abbiamo ottimizzato la curva di tostatura per poter rispecchiare il profilo tradizionale dell'espresso italiano. Quindi dolce, sciropposo, intenso, morbido, avvolgente, con sensazione amara ridotta e grazie a Dio privo di difetti in tazza. L'abbiamo fatto assaggiare ad Alberto, Alberto Bettini, persona estremamente critica, stimatissima, amico, Deus ex macchina della trattoria premiata e stellata Amerigo di Savigno e insomma quando ha assaggiato la miscela rimane un po' in apprensione per sapere se poter incontrare il suo gusto. Grazie a Dio l'ha incontrato e abbiamo iniziato a servirlo. Servendo questa miscela ai suoi clienti Alberto Bettini ha creato una certa popolarità e quindi arrivano spesso da noi in via Oberta clienti che ci chiedono di poter avere lo stesso caffè. Quindi abbiamo chiesto ad Alberto il permesso, abbiamo chiesto di poterlo tenere e quindi da oggi abbiamo la miscela Amerigo 1934 in confezione da 250 grammi macinato mocha anche in vendita in via Oberdan nel nostro negozio storico di Bologna, via Oberdan 10.